Dopo col diretti anche la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, scende in campo contro i danni causati dai cinghiali e lo fa con una manifestazione dinanzi all'emiciclo, mentre all'interno c'era il Consiglio regionale. Una manifestazione pacifica, ma che racchiude la rabbia di un settore anch'esso esasperato, con danni aumentati a causa della pandemia. Una situazione non più gestibile, secondo i presenti, con danni alle colture e risarcimento assenti. Tanti agricoltori che hanno raccontato le loro esperienze dirette, portando cartelli e stanze alla Regione Abruzzo. C'è necessità di rivedere la legge nazionale, abbiamo fatto una proposta in tal senso, ma è fondamentale mettere in campo iniziative che la Regione può garantire che vengano messe in campo. Un discorso di gestione, una programmazione condivisa tra territorio libero, aree e parco, lasciando a ciascuno poi gli strumenti che più ritiene più idonei per mettere in pratica questi obiettivi di gestione e di controllo della fauna. Istituire una banca dati regionale per la georeferenziazione e il deposito dei dati relativi ai danni e agli incidenti stradali. E poi la necessità di risarcire in maniera adeguata quello che il mondo agricolo non denuncia nemmeno più. 2.600.000 euro l'anno sono lontani dalla realtà dei danni concreti, 700.000 euro sono stanziati ogni anno, vengono erogati in maniera tardiva ed irrisoria per ciascun agricoltore. c'è la necessità di superare il de minimis, che è questo meccanismo che tarpa la possibilità di intervenire, ma soprattutto è necessario garantire una gestione che fa lavorare tranquilli e sereni gli agricoltori in campagna. Ad ascoltarli il Presidente della Commissione Agricoltura della Regione, Emiliano Di Matteo, ma erano presenti anche diversi consiglieri regionali, tra cui Silvio Paolucci, Dino Pepe e Marianna Scoccia. L'auspicio è che dal Consiglio esca qualche strumento utile, hanno ribadito i presenti. Di Matteo, a posto dell'assessore imprudente colpito da un lutto, ha ribadito che la Regione è attenta al loro problema, nell'ottica di non far scontrare gli attori coinvolti, ma portarli ad un dialogo, che possa mettere d'accordo tutte le anime. C'è una legge nazionale che va riformata anche per noi, ha detto, ed è un limite, ma la Regione deve fare il suo. Lo stiamo facendo con l'assessore che sta lavorando a varie soluzioni, perché il problema è serio.